Nei giorni scorsi, Apple Music ha raggiunto un massimo storico, 100 milioni di brani musicali. Nei sette anni trascorsi dal suo lancio, Apple Music è cresciuta a una velocità vertiginosa, con oltre 20.000 artisti che ogni giorno offrono nuova musica. Sono passati 19 anni dal lancio di iTunes, in cui inizialmente erano presenti 200.000 brani musicali. Di sicuro quel numero è cresciuto in modo esponenziale. Solo nel 2021 Apple ha ricevuto musica in oltre 350 lingue e dialetti diversi. Le classifiche di Apple Music rappresentano il potere e la diversità di talenti di tutto il mondo, grazie a canzoni e brani musicali provenienti da Giappone, Corea del Sud, Nigeria e Sud America, che fanno parte della Top 20. La passione degli artisti e degli amanti della musica hanno reso Apple Music uno spazio in cui le sottoculture musicali si formano e prosperano, dove le persone si innamorano della musica di tutto il mondo e dove i mondi musicali degli ascoltatori di tutti i giorni possono diventare più ampi, più ricchi e più diversi. Mentre Apple Music continua a crescere, Apple sta rendendo un servizio parallelo una risorsa di valore unico per tutti i creatori. Stiamo parlando di Apple Music for Artists. All'indirizzo artists.apple.com è possibile esplorare le risorse disponibili. Attenzione, è richiesto un account artista verificato. All'indirizzo artista verificato.